Gentili telespettatori, buona giornata. Il sondaggista Weber vede un partito democratico che non interessa più a nessuno, neanche il suo congresso interesserà poco e a pochi e prevede che il PD possa scendere prima al 15%, poi al 14%, poi al 13%, fino all'irrilevanza politica in Italia che sarebbe un problema, dice, per il Paese. Intanto nei sondaggi Meloni e Piantedosi crescono in popolarità, il consenso cresce proprio per la presa di posizione sulle ONG. Pertanto il 56,7% degli intervistati, secondo affaritaliani.it e lab 2101, il 56,7% degli intervistati è d'accordo con il governo, in particolare con Piantedosi, mentre il 43,3% è contrario. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.